Finisce a reti bianche tra Fidelisandria e Crotone, un punto che serve solo a muovere la classifica in casa federiciana e che rimanda ulteriormente il sorpasso sulla Viterbese penultima. Cudini schiera i suoi con il 4-3-3 in avanti, spazio al tridente Paolini e Kuban Bolzius. Zauli sul fronte opposto si affida al 3-5-2. Il primo squillo è di marca ospite al secondo, Panicchieri ci prova con un diagonale, attento Savini. La risposta della Fidelis arriva al dicesettesimo, lancio lungo dalla difesa per Orfei che non ci pensa due volte e calcia verso la porta. Dini controlla senza particolari problemi. Poco dopo la mezz'ora ancora Andrea in avanti, il tiro del solito Orfei dal limite dell'aria però finisce fuori. Sette minuti più tardi invece è Papini in spaccata sugli sviluppi di un calcio da fermo. A mettere in difficoltà Savini che con l'aiuto della traversa non si lascia sorprendere è l'ultima occasione della prima frazione. Nella ripresa è sempre l'estremo difensore Federiciano ad alzare la Sara Cinesca su Panicchieri. I ritmi sono quasi balneari ma al 64esimo è Kuban a sciupare da buona posizione dopo la gran botta di Candellori respinta da Dini. Nello scorcio finale è Savini a prendersi la scena. Il numero uno Biancazzoro sbarra la strada a Tribuzzi in due occasioni e tiene a galla i suoi. Finisce 0-0 al Degli Olivi. Fidelissandria e Crotone dividono la posta in palio.